Buongiorno a tutti e a tutti. Qui a Villa San Francesco abbiamo un grandissimo giardino. Oggi Alberto, Josef, Michele ci mostrano come rastrellare le foglie. Partire da un angolo e proseguire la foglie. Alla fine della foglie nasce un mucchio di foglie. Dopo aver rastrellato tutto, prendere scopo e paletto e raccogliere tutti i mucchi di foglie. Per concludere, votare nel bidone del verde. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!